Ricevuto la vostra email vorrei dei chiarimenti su questo progetto, su quanto sia innovativo, i principali concorrenti, i punti di forza. Dunque vorrei capire perché io dovrei come azienda, in qualità di azienda, in qualche modo assecondare ed acquistare il vostro prodotto. Il nostro prodotto si chiama P-Cell, cella libera a tutti. P-Cell è un dispositivo che genera energie elettriche e si basa sull'effetto SIBEC. Sfrutta praticamente quella che è la differenza di temperatura tra acqua calda e acqua fredda della nostra normale elettrica domestica o industriale. Ok, ma convincimi quali sono i vostri punti di forza? Il nostro prodotto è innovativo perché produce energia elettrica pur essendo contenuto nelle dimensioni e facile nell'installazione. Inoltre rispetta l'ambiente perché sfrutta una semplice tecnologia non inquinante. Infine potrebbe essere inserito nella filiera degli incentivi statali per le energie rinnovabili. Questo è interessante, ma voi a chi intendereste vendere il vostro prodotto? P-Cell è rivolto a due target differenti, una vendita per le famiglie private e un'altra per gli installatori. Sì, ma i vostri concorrenti quali sono? I nostri principali concorrenti sono le aziende che si occupano degli altri tipi di fondi di energie rinnovabili. Ok, mi avete convinto, la vostra idea è innovativa e rispetta davvero l'ambiente. Indubbiamente ci risentiremo. Acqua calda più acqua fredda uguale P-Cell! Sono Danilo, Piero, Isidoro, Ornella, Giovanni. Grazie! Grazie! Grazie!